Benvenuti nel mio canale, siamo di nuovo con voi per le notizie da Tabloid. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al mio canale. Dopo esserti iscritto per essere informato di tali più velocemente non dimenticare di premere il pulsante di notifica. Il movimento i4shee ha festeggiato il suo ottavo compleanno con i giovani e il portavoce di i4shee Karen Bursin. Il movimento i4shee, che l'unità femminile delle Nazioni Unite, Unwomen, ha invitato tutti, in particolare uomini e ragazzi, a sostenere il cambiamento per l'uguaglianza di genere, ha festeggiato il suo ottavo compleanno con i giovani e il portavoce di i4shee Karen Bursin. La famosa attrice Karen Bursin, che è stata annunciata come portavoce di i4shee nel dicembre dello scorso anno, ha affermato di voler aumentare la consapevolezza della discriminazione di genere tra tutti, in particolare gli uomini. Con questo titolo ha spiegato che le cose che lo entusiasmano di più sono stare insieme ai giovani. Sono molto entusiasta di parlare di uguaglianza di genere, soprattutto con i giovani, e di lavorare insieme per una società equa. Vedere le loro prospettive e ascoltarle ci ricorda che possiamo migliorare e imparare in ogni fase della vita, cioè il cambiamento è possibile, ci fa sentire fiduciosi. Secondo l'ultimo rapporto di un women, se continuiamo a questo ritmo, la parità di genere sarà raggiunta solo dopo 300 anni. Questo processo dovrebbe essere accelerato e gli uomini dovrebbero avere un ruolo attivo nell'accelerare questo processo. Gli uomini dovrebbero assumersi la responsabilità di essere più egualitari. A tal fine, dovrebbero riunirsi di più, parlare delle loro esperienze e trovare modi per combattere insieme la disuguaglianza. Questo evento è il primo dei nostri incontri con i forci. Continueremo a incontrare giovani uomini e donne, aumentare la nostra consapevolezza su questo tema e parlare del ruolo trasformativo dei giovani uomini nella costruzione di un futuro equo. Invito tutti coloro che vogliono fare un passo su questo percorso con noi a unirsi al movimento sui social media, usando l'hashtag cancelletto bendelsemkim. Buon compleanno ai forci. I forci turche svolge varie attività di sensibilizzazione, advocacy e capacity building con il settore privato, le università, le organizzazioni non governative e le istituzioni sportive al fine di garantire la partecipazione di uomini e ragazzi all'uguaglianza di genere. Cosa ne pensi di Karen Bursin? Cosa ne pensi del movimento I forci? Non dimenticare di dirci i tuoi pensieri nei commenti. Era così nelle nostre notizie, se ti piace, premi il pulsante mi piace e non dimenticare di iscriverti. Ciao e ci vediamo al prossimo video.